Lunedì 28 maggio 2018. È il 148esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli. La chiesa ricorda Sant'Emilio. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Emilio e di Priamo. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Moccia. Dovrebbe derivare dal termine dialettale Moccio, con il significato di alambicco, ed essere quindi legato all'attività del capostipite. Moccia è un cognome tipicamente meridionale, diffuso in Campania, Basilicata, Puglia ed Alta Calabria. La variante Moccio, molto più rara, è tipica del napoletano. Accadde oggi. Il 28 maggio del 1974, a Brescia, alle 10 del mattino in Piazza della Loggia, durante un comizio antifascista esplode un chilogrammo di tritolo, causando la morte di otto persone e l'iferimento di altre 103. La strage per cui non verrà mai condannato nessuno è riconducibile alla strategia della tensione. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri alla cantante australiana Kylie Minogue, nata a Melbourne il 28 maggio 1968. La citazione da ricordare. Tutto è imperfetto. Non c'è tramonto così bello da non poterlo essere di più. Fernando Pessoa. Dice il saggio. Esamina ciò che viene detto, non quello che parla. Proverbio arabo. Un consiglio al giorno. Taglieri e tavole in legno usate in cucina possono coprirsi di muffa. Se accade, ricoprite la superficie con del sale, in modo che tutta l'umidità interna fuoriesca. E poi, proseguite con la pulizia finale. Ciao. 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 Grazie a tutti.